Buonasera, siamo alla prima partita, silenzio, del torneo, i Fantasy Pets contro i Makers che hanno vinto 2 a 1, presentatevi. Mi piace Ciro. Mi piace Ciro, Andrea. Mi abbiamo ditato. Come avete giocato? Mi ho lasciato male, però anche se molto a ribasso delle nostre aspettative. Mentre hanno in vantaggio, 1 a 0, panno pareggiato e panno male. Perché ridi? Vai, non voglio inferire. Commento tecnico? Nel momento tecnico hanno giocato bene 3-4 persone, che già mi aspettavo. Poi non abbiamo mai giocato, quindi come prima va bene, dai. Mancava il capitano, mancava il numero 10 in campo. Speriamo di tornare presto. Che è segnato? È segnato Cotromino. Voi presentatevi. Siamo i di Giacomo Makers, ma come dice lei Makers. Mi presento, sono Danilo. Fabio Carlone, piacere. Salvatore Murro. Come avete giocato? È male, perché siamo una banda di scarpari. Quindi penso che ci ritriamo dal torneo, voglio, perché non ci possiamo presentare. Mauro, è vero l'arte del piangersi a due. Mamma mia. No, sto scherzando. No, come prima partita è andata bene. Abbiamo vinto 2-1, anche se molto sofferta, perché ancora dobbiamo conoscerci come squadra. Però speriamo di puntare al meglio. Poi se ci sei tu, penso proprio che cambieremo tanto. Tu che vuoi dire? No, niente. Abbiamo giocato male, però ci è andata bene. Perché hai giocato male? Perché io aspiro di più con la mia squadra. Hanno segnato Paduano e Parrasi. Complimenti al portiere avversario. Grazie. Pure io volevo fare i complimenti al mio portiere. Un capitano simpaticissimo. Complimenti al mio capitano che non sa giocare a caldo. Non è simpatico. È vero, è vero. La scorsa partita arrotolava. Ora ho giocato meglio. Paduano e Parrasi non ci stanno. Bocca al lupa. Crepi. Un bacio alla madre. Scegliamo in finale. Wow!